Cazzo! 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 Salve a tutti ragazzi sono Martina Fabrizio e benvenuti in... Challenge Accepted 3 Allora per fare questo video però mi servirà una mano Quindi direi di chiedere... Adesso... Eccolo! Ciao! Allora... Tu chi sei? Marco Barbieri! Esatto! Lui è il nostro regista se ve lo ricordate ma... Quello dei film! Esatto! Perché molti di voi mi chiedono... Ma quando continuo a fare i film? Non lo so! Allora... Oggi siamo qui per... Come ho detto prima regista nel Challenge Accepted 3 Allora... Questa Challenge è un po' particolare perché... Ho già pescato prima... Però non l'ho fatto vedere... Allora... Questa Challenge si chiama... Acqua in bocca oppure... Try to no love! Consiste in guardare vari video divertenti... E... Cercare di non ridere... Però il primo che ride... Perde! Non lo credo... Sì... Fidati! Però per questa Challenge ovviamente ci servono... Due bicchieri... E una bottiglia d'acqua... E... Quindi adesso abbiamo i nostri due bicchieri... Voglio un premio Nobel! E... Con questo premio Nobel... Io dichiaro... Vittoria! Vedi che suode... Metterò anche il suo canale in descrizione... E anche il suo video... Perché faremo... Un video nel video... Videoception... Quindi metterò sia il suo canale... Che il link del video... Quindi direi di iniziare... Quindi metti il player tour... Fa continuare... No... Ma dove sei ancora versato... Io mi voglio far vedere che riprenda che verso... Assurdo... Qualcosa di assurdo... Non ho detto che è stato... E mentre a piangere... Ci rendiamo conto... Ma vince che si metta a piangere... Per un mio video... Ma... Ci rendiamo conto... Quindi... Ora direi di versare... Di versare là... Ma... Adesso sto... Registrando anche quello del canale... Salute... Ma come salute? Ragazzi... Io davvero ho paura... Cazzo il capello... Mi direi di iniziare... Un video... Round 1... Fight! Acqua in bocca... Ho vinto! Fermate tutto... No... Ho iniziato... Non parare... Siamo... 1-0... Sgri zur στα. Anche... Poi! Ci ja. Sì, 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 sì. 2 a 0 Oh che bello 2 a 1 Non so, allora ci sono Ho bagnato leggermente il telefono Devo vincere per forza Questo è il delirio di quando passa Luiz Luiz Marco Chiudo Sero Mi senti vogliato Ok, allora Questo primo round l'ho vinto io Ho vinto 2 Solo perché un ciccione a mese stava volando via per fare un canestro Alla fine è caduto con un apellino anche fly Quindi adesso passiamo col secondo round Che vedrà il protagonista una famosa parodia di Leonardo De Carli Guarda Non è proprio il momento Poi Io Scusami Scusami La mia ex Continua a prendermi per il culo Dopo che anche lei Anche lei C'è stata con me Mantozzo il culo Muore Stronza Io ho fatto tutto per lei Ok? Tutto E lei Coraggio Scusami Scusami Come su amicetti di me Io ho quel video Lo so Mi muore Quindi è ovvio che non rido Quindi direi che ho vinto anche il secondo round Quindi io direi di passare con il terzo e ultimo round Questo video è qui quindi Il terzo round Terzo e ultimo round E questo video è davvero esilarante E questo video è davvero esilarante E questa è una parità Sì è una parità Insieme E quindi questa cosa è pari Quindi manca Ancora una cosa Ancora un punto Sono pronto Anzi ho già vinto Anzi no Chi sputta per più questa Perde tutto Perde tutto E l'altro vince Esatto Io sono Peppa Io sono Peppa Io sono Peppa Io sono Peppa Lei è mamma Peppa Questo è il mio fratellino E lui è Peppa Peppa Oggi piove Quindi piove Quindi Peppa e George Non possono andare fuori a cacare E quindi direi che per questo video è tutto Con voi ci vediamo ad un prossimo video Con i bicchieri che volano Lui l'ha scoppato Quindi ragazzi questo è tutto È stato un video molto Che oserà È stato esilarante Anche se in teoria Dovrei aver vinto io Però abbiamo deciso che alla fine Chi sputtava l'ultima Vinceva Quindi mi dispiace Ma ho vinto io Ehm